buongiorno a tutti oggi farò dei ceci e li farò in tegame ieri li ho messi in ammolo nell'acqua e li faccio con carota patata cipolla poi serve una patata bollita per far un po di cremina e poi metterò del curry ora vi faccio vedere il procedimento ciao mettiamo olio di oliva in una pentola una padella una pentola cipolla carote sale e accendiamo il fornello facciamo rosolare tutto per bene ora che è tutto rosolato mettiamo le patate eccole e poi mettiamo le patate la patata bollita che ho tagliato già a pezzettini ecco ora scolo i ceci e li metto nel tegame copriamo i ceci con l'acqua e chiudiamo con un coperchio a metà cottura metterò il curry adesso metterò un po di curry scoliamo e rimettiamo il coperchio ecco a voi i ceci pronti con questa cremina che si è formata con le patate bollite ora l'impiatto eccoli qua questi sono ceci al curry patate cremina di patate sono buonissimi vi consiglio di farli passiamo all'assaggio sono veramente buoni se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like e cliccate sulla campanella buon pranzo a tutti ciao da Adriano